Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come ogni venerdì, ricominciano le promo su FIFA 22 e siamo davanti alla Road to the Knockouts, quindi una promo che è riservata a quelli che sono i giocatori che andranno a disputare le competizioni europee, quindi Champions League, Europa League e Conference League. Ci sono un sacco di giocatori molto molto interessanti, altrimenti sia acquistabili che tramite obiettivo ed SBC, quindi mettetevi comodi che ce l'andiamo ad analizzare e vi spiego anche come funzionerà nel dettaglio questa prima promo dopo E1 to Watch di FIFA 22. Eccoci qui dunque, Road to the Knockouts. Cosa succede? Queste carte sono degli oggetti dinamici, questo vuol dire che ricevano degli upgrade in due casi. La prima situazione è se la propria squadra si qualifica per la fase eliminazione diretta della loro competizione, oppure se il proprio club vince tre delle quattro rimanenti partite dei gironi, quindi una doppia possibilità di upgrade. Potrebbero prendere sia l'upgrade delle partite vinte, sia quello del passaggio dei gironi. Che cosa succede? Che ci sono poi una serie di domande che potreste porvi, in particolare il giocatore deve per forza essere un titolare? Assolutamente no, basta che la squadra vada avanti. Cosa succede se il giocatore viene trasferito? Il giocatore non riceverà più upgrade, quindi la carta non verrà. Ad esempio, parliamo di Marchinhos, qualora dovesse andare al City, la carta non si tramuterà in Marchinhos del City, ma il giocatore non riceverà più upgrade. Cosa succede se il giocatore è eliminato dalla competizione? Non riceverà più upgrade, stavolta anche nel caso in cui dalla Champions magari scalasse all'Europa League, quindi un giocatore di Champions, magari pensiamo a Vidal, poi andrà in Europa League, non accadrà che continuerà a ricevere upgrade nella seconda competizione come succedeva l'anno scorso, vi ricordate ad esempio quel Rashford dello United. Il boost ovviamente solitamente viene ricevuto poi a distanza di qualche giorno ovviamente in game. Quindi, detto ciò, andiamoci a vedere quali sono invece i giocatori, perché c'è abbastanza carne a cuocere e partirei subito da quella che per me è la carta probabilmente più appetibile, che è Marchinhos, che riceve un bel più 2 di overall su quella che è la carta base, riceve un più 2 di velocità, riceve un più 2 di difesa, un più 2 di fisico, un più 2 di passaggio, un più 3 di dribbling e un più 2 di tiro, che vabbè, le ultime due statistiche ci importano poco. Questa carta di Marchinhos però è molto interessante, perché già di base parliamo di un giocatore che quest'anno è molto 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 forte. Ti dà la possibilità anche di avere degli ottimi link, come ad esempio Donnarumma in porta e Akimi Terzino. Sarà una carta, secondo me, molto utilizzata anche in competitive, visto appunto il suo carattere dinamico e visto la squadra nella quale si trova che, diciamo, dovrebbe dare tranquillamente garanzie di upgrade, sia per quanto riguarda le vittorie nel girone, sia per quanto riguarda quello che è il passaggio dei gironi stessi. Quindi stiamo parlando di un giocatore totale, guardate qui, 83 di accelerazione di velocità, statistiche difensive tutte sopra il 90, 80 tele di aggressività paradossalmente è uno dei parametri che magari più fa storcere il naso, ma tenderà a salire così come tenderà a salire anche l'80 di forza. Quindi sto Marchinhos costerà sicuramente tanto, però è sicuramente la stella di questo team 1 dei Road to the Knockouts. Secondo giocatore, anche qui molto interessante, è Arturo Vidal, che rispetto al PSG trovandosi all'Inter magari nutre speranze di passaggio magari minori, visto che si è messo un po' male il girone dell'Inter, però anche qua parliamo di un giocatorone che è molto rapido per un centrocampista e poi ha tutte stazze sopra l'80, 82 di tiro, 83 di passaggio, 82 di riblico, 85 di difesa, 86 di fisico e nel dettaglio parliamo di un giocatore con 85 di intercettazione, 83 di mentalità difensiva, 96 di aggressività, 84 di forza. L'unico problema magari potrebbe essere quel 3 di skill, ma comunque su FIFA 22 non è che si fanno queste gran skill al centrocampo con i centrocampisti, non costa tantissimo, io al momento lo collocherei sicuramente davanti a Chessy, sicuramente davanti a quel Milinkovic if che è uscito, lo porrei dietro però a Tonali che poi andremo a vedere a bevissimo, quindi sto Vidal veramente un ottimo, ottimo, ottimo giocatore. L'eroe Sané, questo invece mi sa di trappola perché parliamo di un giocatore che ha 2 di piede debole quest'anno, 4 di skill, sia del Bayern, sia ha ottime possibilità di upgrade, tutto quello che volete voi, anche un capello e un buffo discretamente ignorante, però parliamo di un giocatore che ho piazzato sull'esterno, però insomma è esterno destro, tedesco, difficile da ibridare, onestamente non è che ci vedo l'esigenza di spendere questi 600, 500, 400k che saranno per questo Sané. L'ipotesi, magari ve lo ritrovate non scambiabile, allora un altro paio di maniche, ma anche qui sempre e solo secondo me da esterno, da super sub, mai da titolare perché rischia di fare più guai che altro il buon Sané, nonostante abbia avvenuto anche un bel più 4 rispetto a quella che è la carta base. Quindi scartato Sané arriviamo ad un altro giocatore incredibile che per me è Sandro Fakintonali, che secondo me andrà più di 400k, potrebbe anche salire, se per un paio di giorni rimane estinto, prende un bel più 3 su quella che è la carta IF, con più 3 di velocità, più 6 di tiro, più 4 di passaggio, più 3 di ribling, più 3 di difesa e più 3 di fisico, anche per lui 3-4, quindi 3 di abilità e 4 vede debole, ma è molto veloce, statistiche difensive da paura, 87 di aggressività, 83 di forza, passaggi molto buoni, sia per quanto riguarda quello corto che quello lungo, un caschetto da Kylo Ren per i passionati Star Wars, questa è una carta clamorosa, anche la situazione di passaggio del turno del Milan, magari al momento non è del più rose, nonostante il Milan stia giocando molto bene in Europa, un po' sfortunato in quelli che sono stati gli episodi, ma sto Tonali è sicuramente il fiore all'occhiello della Serie A a centrocampo a questo punto, secondo me è assolutamente il miglior centrocampista, quindi se avete una Serie A, se volete fare un triangolo, Teo, Tomori e un centrocampista, a questo punto, scalzato che sì, Tonali si va a posizionare in cima le mie preferenze per una Serie A. Poi abbiamo Mucchiele, da terzino, con 86 di velocità dell'Ipsia, 3-3, e onestamente questo è un giocatore che lascia un po' il tempo che trova, perché comunque diciamo che in Bundesliga c'è tanta, tanta, tanta concorrenza per quanto riguarda la difesa, c'è per esempio Babu che costerà sicuramente meno, insomma, come ruolo di terzino si è abbastanza coperti sotto questo punto di vista, poi anche qua Bundesliga, insomma, anche se lo si volesse ibridare in squadre appunto ibride, non è che è proprio il massimo, un buon giocatore, ma sul quale non andrei a spendere soldi inutili, vista la concorrenza a prezzi più bassi. Tra le SBC, invece, è uscito dell'Igd, anche qua, un signor giocatore che riceve un più 2 rispetto alla carta base, abbiamo più 4 in accelerazione, più 4 in velocità scatto, un più 1 in difesa e un più 1 in fisico, per un giocatore che quindi arriva ad avere tutte le stats difensive sopra l'80, con 85 di mentalità difensiva, 84 di aggressività, 94 di forza, situazione della Juve molto rosa che probabilmente gli consentirà di superare il turno e quindi io questo delit qua lo consiglio, probabilmente insieme al buon Koulibaly, ormai il miglior difensore in una Serie A, con una Serie A che tra l'altro, ribadisco, quest'anno si sta veramente gonfiando di belle carte, una più valida dell'altra, quindi anche Matisse fa parte di questo pacchetto di giocatori che rendono la Serie A veramente un ottimo, ottimo campionato per poter buildare le nostre rose su Ultimate Team. Rodrigo Silva, questo qui non ha bisogno di presentazioni perché, insomma, penso lo conoscete un po' tutti, 4-4 del Real, riceve un più 5 sulla carta base, più 5 di velocità, più 6 di tiro, più 7 di passaggio, più 5 di dribbling, più 5 di difesa e più 6 di fisico, anche qua parliamo di un signor, signor giocatore, Real che, insomma, sicuramente gli farà avere un bel boost, molto rapido, dotato di una discreta finalizzazione, penalizzata però dalla potenza tiro in questi casi, un buon passaggio corto, un po' male in lungo, io, questo giocatore qui, qualora voleste impiegarlo, lo utilizzerei da esterno, però onestamente parliamo di un giocatore che costa tanto, ha ipato per il Real, secondo me è anche difficile da ibridare se non utilizzate una Liga, perché lì a destra, insomma, fascia brasiliana non è che è proprio il top, quindi considerato che ci sono tanti altri giocatori di altri campionati validi uguali, per me Rodrigo si può anche schippare, visto il prezzo che è veramente esagerato. Dalla Champions League trasliamo su quella che è l'Europa League, dove abbiamo Issa Diop, insomma, un difensore un po' così, 83, per carità, neanche troppo lento, anche se a 70 di accelerazione si fa sentire, rivedibile, ecco, da scartare, visto la concorrenza, c'è Godfrey Gomez, che, insomma, penso a questi giocatori qui, che sicuramente sono molto più utilizzabili per quanto riguarda una Premier League in difesa. E a proposito di Premier League, guardate con che faccia ce lo sta dicendo che Son ha avuto un oggetto dinamico quest'anno, e ha avuto un oggetto dinamico in una competizione che rispetto alla Champions dell'Europa è molto più apportabile, quindi questo qua è praticamente una miniera di upgrade, è una miniera d'oro per chi riuscirà a trovarlo soprattutto, o per chi magari volesse anche fare un investimento e prenderlo. Parliamo di un giocatore totale, riceve solamente un più uno in velocità, addirittura a meno uno in passaggio, però voglio dire, parliamo di un signor giocatore che è sicuramente un top per quanto riguarda sia il ruolo di esterno che dice C, che di punta, sapete quanto io straveda per Son, costo esorbitante, ma ripeto, un giocatore assolutamente totale per quanto riguarda le statistiche che ha. Abbiamo poi, sempre in Europa League, il buon Alexander Isaac, anche qua un bel giocatore, 4-5 per quanto riguarda abilità e piede debole, è molto alto, quindi magari non è questa grande agilità, Sociedad che potrebbe avanzare di turno, però purtroppo giocatori come Isaac quest'anno nel gioco dove già altri fanno fatica a girarsi non è che trovano proprio grossi mezzi per poter dire la loro, quindi onestamente anche per lui secondo me è un bellissimo next considerando che è un attaccante svedese, a meno che non avete una liga e riuscite a prenderlo a prezzi decenti e lo piazzate se vi piacciono gli attaccanti un po' più fisici. Concludiamo con la Conference League e concludiamo con Amari Traore che paradossalmente anche se non da Strong Link potrebbe essere una buona alternativa, magari un po' più cheap ad Akimi, essendo comunque un ottimo terzino, 3-3 o velocissimo, dei discreti passaggi, discrete stats difensive, una buona aggressività, pecca magari un po' nella forza, però è un buon terzino che qualora magari utilizzate una Ligan, avete una catena di Ligan, potete tranquillamente andare a inserire. Quindi, ricapitolando ragazzi, per questo primo team dei Road to the Knockouts è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ovviamente vi ricordo in descrizione trovate tutti i link per quanto riguarda piattaforma viola, eccetera eccetera, a me non resta altro che salutarvi, un saluto nel vostro Liberoschi, ciao ciao!